Con Nicola Zanon, lei è direttore dell'Api Industria Venezia. Siamo qui alla Firas di San Dona di Piave, una grossa azienda commerciale dove l'Api Industria Venezia sta realizzando in diretta televisiva un convegno sull'internazionalizzazione, non è solo per grandi, fondamentalmente in cosa consiste. La vostra associazione sindacale non è che si preoccupa solo di gestire le cose burocratiche ma da molto tempo e oggi in modo particolare e importante cercate di dare dei consigli e anche delle esperienze fatte da altri come muoversi all'interno dei stati di questo mondo in modo da poter lavorare, esportare, investire e conoscere. Ecco, un plauso perché non è che tutte le associazioni sindacali fanno questo ma preoccuparsi di questo è una cosa estremamente importante. Estremamente importante perché le nostre aziende trovano sui mercati esteri la possibilità di crescere, di differenziare i propri mercati di poter anche trovare nuove opportunità. Certo che muoversi su mercati non conosciuti, nuovi e che hanno anche tradizioni e metodologie di lavoro diverse non è semplice. Ecco che un'associazione in categoria dedicata alla piccola e media industria ha il dovere di accompagnare questi imprenditori su queste nuove esperienze dando loro consigli, suggerimenti, segnalando dei consulenti e dei servizi dedicati e portando anche imprenditori, colleghi di questo territorio a raccontare le proprie esperienze. Oggi abbiamo quattro esperienze di imprese locali che hanno visto nell'internazionalizzazione la possibilità di sviluppo, di crescita e che quindi possono essere dei buoni esempi come testimonianza. Ovvio questo ha anche un altro aspetto positivo perché questi imprenditori possono conoscersi fra di loro possono valutare opportunità di sinergia, di collaborazione e quindi di poter crescere assieme. Questo vuol dire portare ricchezza su questo territorio vuol dire esportare i beni e presidiare quei mercati quindi portando ricchezza qui. Ovviamente noi a differenza di altre associazioni che probabilmente rappresentano più gli interessi della grande industria noi siamo contrari a fenomeni di delocalizzazione. La nostra è aiutare l'azienda a crescere ma mantenendo qui la produzione, qui il lavoro, qui la ricchezza. Non andiamo in giro per il mondo a cercare bassi costi, bassa manovalanza cerchiamo paesi in cui poter vendere i nostri prodotti e quindi poter crescere qui nel nostro territorio. Ecco, una delle cose che è noto che fate voi della Pindustria è quella di intanto muoversi all'interno dei territori e per cui fare questi convegni all'interno delle aziende che mettono a disposizione le sale convegno eccetera è sempre un grosso impegno perché lavora e anche ospitare i suoi colleghi, diciamo imprenditori si tenta sempre di fare bella figura per cui si mette il doppio dell'attenzione e poi voi cercate anche di comunicare ciò che fate attraverso i nuovi mezzi di comunicazione in questo caso oggi si sta facendo la diretta ma anche in streaming nella vostra pagina e poi sarà anche rivista la possibilità di rivedere questo per cui anche per chi non può venire voi create attenzione. Esattamente, non solo quindi ci sono diversi imprenditori in diretta che stanno seguendo spesso anche fuori sede o addirittura all'estero che quindi non avrebbero l'opportunità di essere fisicamente qua ma anche la possibilità di rivederlo in qualsiasi momento anche in orario serale quando magari l'imprenditore riesce a ricavarsi quelle due o tre ore fuori dalla normale attività agenda di impegni. Crediamo nelle tecnologie, non potrebbe essere diversamente se stiamo oggi dando input alle aziende per muoversi ai mercati esteri quando spesso si parla di fusi orari diversi di altre lingue e di anche mezzi di comunicazione diversi è fondamentale che sia per prima l'associazione ad utilizzarli e abituare le aziende all'importanza di queste tecnologie. Ad esempio abbiamo qui presente oggi come case history uno dei principali operatori di WeChat che è il principale social network della Cina su cui si va dall'acquisto del bene al pagamento, alla raccolta informazioni, alla comunicazione quindi una piattaforma universale che di fatto non esiste in Europa e sostituisce quel che è i normali social network tipo Facebook, Twitter eccetera pertanto portiamo noi stessi all'interno degli eventi questi operatori e quindi danno testimonianza diretta e anche possibilità al nostro imprenditore di capire come deve muoversi ancora prima di mettere il piede in Cina parte preparato senza farsi male e senza gettare al vento importanti risorse che verrebbero disperse senza beneficio.